sono il più umile al mondo non volevo fare il vaccino ovviamente perché è sperimentale l'ho comprato ha comprato il vaccino? sì, l'ho comprata in due dosi dove l'ha comprata? in Germania è andata una ragazza simile a me a fare il vaccino con il mio documento io ho pagato e niente cioè tu hai fatto il vaccino falso? certo cioè non ti sei fatto il vaccino? ma certo, non l'ho fatto non sono così scema è un reato ma è un falso è un reato pubblico è una cosa gravissima vergognosa ma c'era la possibilità l'ho comprato in un filmato ha inquadrato degli anziani che giocavano a bocce